Insieme all'insegna della sostenibilità e della lotta alla dispersione idrica, servizio a rete tour fa tappa ad Ercolano. Cori ospita a Villa Campolieto l'ottava edizione dell'evento tecnico-scientifico dedicato al mondo del servizio idrico integrato. La due giorni partita questa mattina riunisce e mette a confronto i principali gestori insieme alle aziende produttrici di tecnologie, applicazioni e soluzioni innovative. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del presidente di Gori, Sabino De Blasi. Puntiamo a ridurre le perdite al 27% entro il 2025. Abbiamo presentato dei progetti che poi sono stati finanziati per 50 milioni di euro dal REACTU e per altri 50 milioni di euro dal PNRR. Sono progetti che poi tendono a ridurre le perdite. Posso dire che due anni fa eravamo in questo distretto che si estende su una superficie di 900 chilometri quadrati, quindi anche ad alta densità e con grandi difficoltà anche di intervenire sulle reti. Eravamo a una percentuale del 52% di perdite. L'anno scorso eravamo al 46% e il dato di agosto 2023 ci dice che le perdite adesso si sono abbassate al 35%. Il nostro obiettivo entro il 2025 è quello di portare le perdite in questo distretto al 27%, il che significa 65 milioni cubi di acqua risparmiati all'anno. Questa due giorni a Villa Campolieto è un'occasione di confronto e di crescita. Ci confrontiamo con le amministrazioni locali. Per quanto riguarda Energie per il Sarno abbiamo un tavolo permanente con 33 sindaci e per quanto invece riguarda azioni per l'acqua, quindi la riduzione delle perdite, abbiamo un tavolo permanente con 74 sindaci perché si tratta, in questo ascoltiamo molto, abbiamo anche e stiamo riscuotendo anche una grande collaborazione della cittadinanza perché poi si tratta di intervenire sulle reti, di fare interventi che noi cerchiamo di rendere il meno invasivi possibile, quindi il più veloce possibile, però in determinate situazioni io capisco che vengono poi bloccate le strade, le cose c'è, però tutto per pochi giorni o per poche settimane, ma con un obiettivo nobile e importantissimo che riguarda la nostra comunità. Siamo onorati oggi di dare il benvenuto al servizio di rete all'interno del nostro distretto che viene oggi in un momento non casuale, in un momento in cui il nostro distretto sta finalmente portando a casa dei risultati straordinari che possono essere considerati da primato nazionale. C'è il tema della bonifica del firme Sarno, ma c'è soprattutto il tema della lotta alla dispersione, della lotta alle perdite idriche con cui noi stiamo cercando con grande forza e con grande energie di ridurre del 50% le perdite idriche sul nostro territorio. Siamo qui per raccogliere tutti i gestori italiani, ma anche per sancire a livello nazionale i risultati di un distretto, che è un distretto del sud Italia, che guarda con orgoglio a quanto sta facendo e con orgoglio a quanto farà. A che punto siamo con la bonifica? La bonifica sta correndo speditamente e sicuramente riusciremo a centrare l'obiettivo per il 2025 di bonificare il fiume Sarno e di garantire la baninabilità su tutto il tratto di costa. Quali sono le azioni da mettere in campo per contrastare la dispersione idrica? Sicuramente è necessaria un'azione sinergica con il REACT e adesso con il PNRR. Quello che si sta verificando è un qualcosa di epocale per il nostro paese, per la nostra nazione. C'è una vera e propria partnership tra i gestori e gli operatori economici che tutti insieme, quindi questa è la parola d'ordine, tutti insieme all'insegna della sostenibilità si sta cercando e si riuscirà a raggiungere, a colmare quelli che sono questi importanti che in particolare, come giustamente diceva, la dispersione idrica ma non soltanto, anche l'efficientamento energetico. Questo appuntamento sicuramente è un checkpoint dove possiamo dirci, confrontarci, capire dove siamo e dove siamo sicuri che arriveremo. Siamo particolarmente contenti ed orgogliosi di presentare proprio oggi qui, diciamo a casa nostra rispetto a una fiera nazionale, quello che è un nuovo servizio che abbiamo ideato, al quale stiamo lavorando da un anno, che in realtà è un servizio attraverso un prodotto, quindi quella che viene chiamata servitizzazione, e cioè un nuovo servizio attraverso l'intelligenza artificiale che consentirà di dare ai nostri clienti l'opportunità della manutenzione predittiva e soprattutto anche con uno strumento che si chiama Brainbox e Flow Control che è un altro strumento che anticiperà, diciamo, gli sfioramenti dal punto di vista degli impianti fognari quando ci sono avversità immediate come purtroppo spesso ultimamente accade. Quali sono le prossime sfide per il futuro? Le prossime sfide sono continuare a implementare, perché è solo l'inizio per noi di un percorso che ci vede mettere a disposizione della tecnologia la nostra esperienza e coniugando questi due elementi portare un contributo su tutto quello che riguarda il tema delle acque e il nostro obiettivo poi aziendale è di allargarci a livello nazionale come già lo siamo ma diciamo di essere ancor più radicati sul territorio per poter offrire ai nostri clienti questo tipo di supporto e di servizio. Ercolano sta facendo passi da gigante, la settimana prossima inizieranno i lavori per dotare tutta la zona alta dell'impianto fognario, da qualche anno abbiamo il mare balneabile grazie agli impianti di sollevamento. Dotare un territorio dell'impianto fognario, dell'impianto di sollevamento non significa soltanto dignità di un quartiere ma significa anche garantire il futuro dei nostri figli. Grazie.